e ciao a tutti ragazzi ovviamente sapete perfettamente chi sono io sono ovviamente l'elettro 16 di quartiere e oggi siamo finalmente arrivati ai 1000 iscritti si quando sto facendo sto facendo sto video il giorno dopo che siamo arrivati ai 1000 iscritti ovviamente quando uscirà questo video ecco cioè voi direte ma elettro stai male oh ragazzo facendo sto video quando uscito sono arrivati il giorno dopo comunque allora oggi si sono generate two now cell containment cell molto belle tutte e due ovviamente sapete dove nel deserto ma che bello adesso dobbiamo fare metri quadrati porco giudo ci voleva anche il porco giudo allora qua mangia un po' di carne che ci fa bene alla salute non è vero mai però va bene così allora c'è la colla scp di oggi era da quelle pa da qualche parte ora non mi ricordo dove ma era da qualche parte comunque ragazzi le torce stanno finendo e anche gli scp stanno finendo quindi ragazzi niente stanno finendo pure gli scp e vabbè e vabbè so cose che fanno parte della vita quotidiana allora l'SCP di oggi era proprio da queste parti ora non mi eccolo la mi sa che quello è quello fatemi vedere meglio ooo si è lui è lui è lui è lui intanto qua ci sono i cristiani del 0 93 che mi sa che sono caduti quei cristiani dei fi certi eccoli ehi cristiani ma ma siete cercati forti ragazzi cioè siamo vicinissime a loro chissà quanto vicini ah no adesso ci vede ma io mi dissocio ehi cristiano niente è un deficiente sto cristiano allora andiamo dall'SCP di oggi che è questo qua mi ricordo perfettamente che è questo qua fammi vedere pure bene se è questo qua si è questo qua ok ragazzi eccoci qua mangiamo un pochino e di qua si entra la cella e ovviamente ci siamo già spoilerati che è di classe Keter ma che bello ma che bello spoilerarsi gli scp quando prima di entrare è bellissimo allora l'SCP di oggi è di classe Keter ed è l'SCP 165 allora 165 non mi pare di conoscerlo adesso andiamo a fare un'alti un'ottimo un'ottimino una ricerchina su google per capire qual era il 165 perché io assolutamente non me lo ricordo l'SCP 165 vediamo un po' qual è il 165 ah raga ah eh si raga lo conosco perché allora io mi ricordo questo SCP questo qua l'aveva fatto Lion erano gli acari eccoli là gli acari quelli là piccolini tantissimi che sembravano sabbia e uccidevano la gente ecco quell'SCP là quello là degli acari di classe Keter allora vi spiego un pochino sono degli acari tantissimi acari tanti ma con tanti intendo seriamente tanti un esercito di acari che 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 unito insieme sembra sabbia questi acari però sono molto pericolosi perché mangiano la gente quindi raga attenzione intanto qua possiamo chiudere google e adesso direi ragazzi quindi di andare dall'SCP dalla zona di osservazione per vedere l'SCP meglio intanto allora aspettate un attimo ok allora sono un attimo un attimo allora la abbiamo siamo entrati e come ovviamente il layout perché questo qua è quello dell'SCP del centipede il 363 ecco qua raga eccoci qua ecco qua questa è la cella e questa sabbia questa sabbia che voi pensate si sabbia normale non è sabbia normale questa sabbia qua è proprio l'SCP si sono un'unione di tantissimi acari che messi insieme e fingono una sabbia allora io intanto metto qua il un coniglio perché questo spawnava il coniglio e vediamo se succede qualcosa perché questi qua sono molto forti ok ehi cos'è succe raga che è successo oh mio dio allora fermi tutti calmi 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 si è generata una gigante se non mastodontica mano che era di un colorito e ci ha ucciso si chiama SCP-682 arma raga ma quella SCP quella mano è sono l'unione degli acari però io quella mano l'ho già vista da qualche parte quella mano la generava l'SCP-682 che ovviamente non l'ho fatto vedere nel video perché era già il durato pochissimo che il video era vecchissimo cioè era di un anno fa quasi quindi raga questa sabbia allora di norma adesso il coniglio è morto speriamo che sia morto e adesso andiamo a vedere un attimino intanto c'è il mio gatto che è pazzo che questa è la prova che è pazzo miau ecco allora stavo dicendo che allora andiamo di qua allora il gatto l'abbiamo già detto è vero no sentite i fatti miei non non se vi caga nessuno allora allora andiamo nella cella magica ecco l'acqua vediamo se è morto il coniglio ok eccoci qua allora 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 andiamo nella cella entriamo direttamente nella zona di contenimento per vedere se è morto il coniglio oppure ancora vivo ma sicuramente è morto vediamo un po' mmm vediamo miau miau abbiamo capito miau allora raga comunque no il coniglio ma io cosa devo dire adesso cioè ditemelo voi allora allora miau il coniglio ancora vivo è magico ma è magia nera questa questa è ripotere cosa vuoi allora no raga il gatto è monello è il coniglio pure Bax Bunny vieni qua buon rimalo Bax Bunny è morto Bax Bunny buonissimo aspettate un attimo ok allora quel brutto bastiano di un gatto è proprio un monello allora qua non mi stia succedendo nulla qua siamo dentro la cella non si è generato il gigantesco coso raga si è generato di nuovo lo vedi raga si è è rimasta la sua raga niente si era generato di nuovo io avevo avviato niente l'ho visto con gli occhi attentamente era proprio un un gigantesco una gigantesca mano una gigantesca mano che però non aveva il colore del s***o e ragazzi niente questo è l'SCP adesso non so come portarmela a casa ma vedrò di fare qualcosa quindi io comunque ovviamente ragazzi è che per questo video è tutto lasciate un bel like iscrivetevi e da me eletro 16 ovviamente è tutto perché perché si vaffanculo no basta vai niente da me eletro 16 è tutto alla prossima ciao